Si chiama Golena Life, l'attività voluta dall'amministrazione comunale è prevista nel contesto specifico dell'area fluviale e in particolare della Golena, da cui il nome del progetto, del fiume Pescara e del percorso ciclopedonale che risale la foce sino allo sbocco in mare. Con il progetto si intende valorizzare il rapporto simbolico identitario che lega il fiume Pescara alla città e ai cittadini, sul quale appare fondamentale puntare per lo sviluppo territoriale. Sarà selezionato un gruppo di 20 giovani pescaresi fra i 18 e i 35 anni da coinvolgere attraverso l'attivazione di borse lavoro formazione nello sviluppo di un piano di riqualificazione dell'area che prevede tra gli altri anche la creazione di un eco museo fluviale con percorsi di rigenerazione urbana, ambientale e culturale. Golena è un progetto voluto fortemente dalle politiche giovanili, la realizzazione di un museo eco fluviale dove naturalmente si andrà a valorizzare il fiume. Oggi il fiume non deve essere più un oggetto simbolico ma concreto. Noi daremo la possibilità a un gruppo di 20 ragazzi che parteciperanno e verranno selezionati appositamente tramite bando per copartecipare a questo progetto dove loro saranno attori protagonisti, dove saranno il cuore dell'iniziativa, dove creeranno dei gruppi, delle situazioni, dei percorsi di rigenerazione urbana, ambientale e culturale. L'età dei ragazzi va dai 18 anni e 35 anni. Il bando entro un mese ci sarà, naturalmente sarà nostra premura informare tutti i ragazzi di Pescala perché potranno partecipare i residenti. Avremo una grande motivazione per questi ragazzi, a fine progetto parliamo di un percorso di borsa, lavoro, studio e formazione. riceveranno 3.000 euro, il progetto durerà un anno. Quindi daremo veramente una grande possibilità ai ragazzi di Pescala di valorizzare il fiume ma nonostante ma di attivarsi anche come autoimprenditorialità in un percorso così importante.